Eccoci qui a Bacchereto alla Sagra della Banana, quindicesima Sagra della Banana ma vediamo questi ragazzi di Bacchereto, tipico ragazzo di Bacchereto che sta friggendo appunto il piatto tipico Baccheretano le famose banane di Bacchereto, perché da non imbrogliarsi appunto con le banane di Carmignano perché a Carmignano non le sanno fare, le banane sono tipicamente di Bacchereto, le famose banane di Bacchereto invece a Carmignano si sa che sanno fare fichi ma no le banane, per fichi gli è un altro discorso ne andremo a parlare nella prossima, ricordiamo che le banane di Bacchereto sono molto più buone infatti molto più famose che i famosi bricidini di Ramporecchia, ma il bricidino è sorpassato c'è le banane di Bacchereto, ma vedete questo operatore a piedi ignudi, ma se le è lavate si è fatto un bidet prima di venire a lavorare, questo ragazzo invece con questo movimento a scellare gli sta diciamo rimestando queste banane fritte, che le hanno pronte solo quando le hanno presso il colorino diciamo Ambrato, diciamo quando gli ha presso l'Ambrato le hanno pronte ma ecco attenzione, gliene sta rimestando proprio in questo momento davanti a noi il giovane operatore a scellare sta rimestando con corpo diciamo da scella le famose banane di Bacchereto qui alla quindicesima sagra di Bacchereto ricordiamo che a fine serata ci saranno i Queen con Freddie Mercury e Osso in persona a cantare Guivo e Racchi ma ecco attenzione che gli schizzi d'unto Osso stanno ungendo tutte le piastelle per il pavimento gli schizzi d'unto Osso sono vestiti appertutto con le mani, Osso le mani imbrattate non tolerci, vediamo in questo momento gliene sta andando a rigirare Osso, gliene sta rigirando vedete come gira, gira e gira ecco ma gliene sta ancora rimestando grazie 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 grazie